Dopo Micael e la legalità con l'Assemblea Nazionale di Abisso Pubblico e le presentazioni del dossier Puglia e del Manifesto di Monte Sant'Angelo, dopo Micael e la storia e la cultura con la Longobard Experience e il CDA dei Longobardi in Italia, e dopo il rally, la festa della tradizione con il Falò e la partecipazione della Pacchianella e i San Mecalere, gli eventi con Fabio Concato, i tablovi, i events dedicate agli Arcangeli, la produzione sulle Orme dei Pellegrini, e il Cammino di Micael, la sesta edizione del Festival Micael a Monte Sant'Angelo continua con la sezione dedicata al turismo e ai due siti UNESCO con la tappa speciale del Business Tourism Management dedicata al Gargano con i buyers che incontrano gli operatori turistici del Gargano con la regione, i sindaci del Gargano e la partecipazione tra gli altri anche di Fabio Viola e Roberta Garibaldi. Il progetto itinerante unisce il comparto turistico-culturale agli operatori, le istituzioni e il territorio, incontri, connessioni e formazione continuo attraverso le interazioni del Business Tourism Management, dunque con l'obiettivo di alimentare sinergie fondamentali tra pubblico e privato. Anche la nuova sfida del Gargano, tra i temi caldi di questa edizione, Experience Open Air, sostenibilità e digitale coordinate, imprescindibili per una destinazione innovativa, unica e indimenticabile, con l'obiettivo di una nuova identità territoriale che non sia più solo il mare. Per la sesta edizione del Festival Micael in programma anche la Via Micaelica in audizione al Consiglio di Europa per chiedere il riconoscimento come itinerario culturale europeo il prossimo undicimale e poi il convegno internazionale di studi sui paesaggi e i pellegrinaggi tra antichità e meglio euro.